In vista dello sciopero generale dei metalmeccanici il 14 giugno e l'ipotesi di accordo tra FCA e Renault, stamane la FIM Cisli Piniasagno ha tenuto un'assemblea nel salone dell'hotel Malaga da Triparda. Presente all'incontro il segretario generale Luigi Galano e il coordinatore nazionale del settore automotive FIM, Raffaele Appettino. I vertici del sindacato si dicono fiduciosi sugli effetti che potrebbe provocare la fusione anche a beneficio della FCA di Prato-la-Serra, favorevoli all'Unione ma a certe condizioni come precisa Galano. Lo sciopero del 14 è anche se è un po' più ampio rispetto ad una vertenza che invece caratterizza soltanto il nostro territorio. In un qualche modo anche qua, anche l'FCA rientra nelle ragioni dello sciopero perché registriamo un'assoluta assenza delle politiche governative per quanto riguarda questa vertenza che invece vide molto attento il governo francese, parlo della merger con Renault, fa scarpore, è eclatante l'assoluto silenzio, l'assoluto essere fuori dal mondo, l'assoluta mancanza di partecipazione da parte del governo che in questa fase è inerte. Noi oggi ci sforziamo di incontrare e di rassicurare i lavoratori dell'FCA sulla base di quello che noi sappiamo per quanto riguarda il loro futuro immediato. I fiduciosi per il futuro dell'FCA di Prato-la-Serra? Allora io sono certo che la scommessa che i sindacati firmatari hanno sottoscritto con FCA nel lontano 2010 oggi sia quanto più attuale che mai perché si profila all'orizzonte la possibilità della piena saturazione degli stabilimenti soprattutto anche quello di Prato-la-Serra perché avrebbe la possibilità di avere maggiore mercato e maggiore capillarità di presenza nel mercato mondiale e globale e certamente è una cosa, è un processo che pone i sindacati firmatari e la FIM, la FIM CISL in primo luogo ad essere attentissimi affinché appunto non si producano delle sovrapposizioni di stabilimenti in cui uno fagocita l'altro e ovviamente c'è il rischio che questo possa succedere con la motoristica soprattutto ma noi siamo fiduciosi che piuttosto che assorbire gli stabilimenti ci sarà la possibilità di farli invece raddoppiare nei volumi.